Promuovere la cosiddetta cultura verde con nuovi percorsi di sviluppo e inserimento nel mondo del lavoro basati sulla sostenibilità ambientale. È l'obiettivo del protocollo d'intesa, la Regione Piemonte per la Green Education, sottoscritto a Palazzo Lascaris dagli assessori all'ambiente, all'istruzione e all'agricoltura e 26 soggetti pubblici e privati. Tra le prime iniziative il premio incubatori di Green Education per le scuole per valorizzare e stimolare percorsi didattici sui temi della sostenibilità e della Green e Circular Economy.